In gergo si chiama mezza maratona, ma il suo significato è il doppio questa volta, la quattordicesima edizione della Pisa Half Marathon. È infatti la prima manifestazione di questo tipo a livello nazionale dopo il lockdown, con la partecipazione di atleti internazionali italiani di alto livello. Ovviamente le misure anti-covid hanno contrassegnato la modalità di svolgimento, dal numero chiuso di partecipanti al controllo della temperatura con prefiltraggi prima della partenza, che è stata scaglionata a blocchi che partivano a distanza di un quarto d'ora l'uno dall'altro, e poi classifica basata sul tempo reale e niente premiazioni, con i riconoscimenti che verranno consegnati in seguito. Siamo riusciti a fare quello che forse tutti avrebbero immaginato impossibile, un segnale simbolico di rinascita per la città, ma forse anche concreto, perché di questi 2.000 atleti almeno 1.500 sono da fuori. Abbiamo atleti da 24 paesi, più di 30 province italiane, che hanno dato un piccolo, mi rendo conto, ma comunque io spero simbolicamente significativo contributo all'economia della nostra città. Da pochi giorni il governo dovrebbe promulgare nuove misure distrittive, questa volta però si spela senza capi spiatori, come lo furono i runner durante il lockdown. All'inizio del lockdown abbiamo avuto tanta paura, come era giusto, e come in tutte le situazioni di paura alcune situazioni vengono estremizzate. Oggi è chiaro che chi fa una corsetta nel parco non è il problema, non è nemmeno il problema chi partecipa, come lei diceva, a una gara con grande ordine e le massime precauzioni.